E Amnich si impegna contro le barriere architettoniche al via Story City. Venerdì 29 settembre a Pizzino in Valtaleggio, secondo appuntamento per il progetto Story City che vede Amnich impegnata per la verifica dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto infatti rappresenta un modello di turismo accessibile che valorizza la storia delle persone e quella del territorio che le accoglie. Stiamo continuando le prove per il progetto Bergamo Cultura, abbiamo fatto l'esperimento 15 giorni fa in Città Alta, adesso siamo nella nostra casa vacanze a Pizzino, abbiamo 50 ragazzi con noi, l'esperimento è perfetto, l'abbattimento barriere architettoniche perfetto e quindi è un buon auspicio per iniziare il 2023 con Bergamo Cultura. A Pizzino due gli appartamenti già ristrutturati e pronti per accogliere i turisti con disabilità. Sono stati progettati per offrire comfort e benessere, garantendo l'accesso ad ogni ambiente in modo autonomo e sicuro. Un progetto interessantissimo, un progetto che mixa sociale e turismo in Valtaleggio, una casa vacanze che sarà aperta a tutti gli ospiti che potranno gradire le bellezze, le bellezze naturali. Grande opera, bella realizzazione che fa onore a chi l'ha ideata, a chi ha avuto la costanza di portarla avanti e oggi ha raggiunto la sua piena efficienza. Dobbiamo dire un grazie ai nostri sponsor, alla Fondazione Intesa, Fondazione Cariplo, alla Sagbo e all'Accademia dello Sport di Bergamo, ai Lions Valcaleppi o Valcavallina, la IMETEC e molti altri che si stanno chiamando perché vogliono collaborare a questo progetto. Un grazie alla generosità dei bergamaschi. Grazie a tutti.